Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Consiglio regionale, oggi si discute in aula il Cura Abruzzo 2, qual è la vostra posizione? Di delusione perché le risorse sono esigue, sono 53 milioni sulla carta ma prontamente disponibili appena 19 e nel frattempo si è talmente allargata la platea da rappresentare per quanto riguarda le tante imprese e i cittadini sostanzialmente di un piccolissimo contributo. Resta da confermare tutto l'aspetto relativo alle altre decine di milioni di euro per i quali si attende il consuntivo, quindi ci sarà molto da aspettare secondo noi. Abbiamo dato un contributo per le borse di studio, soprattutto per le zone rosse, per il ristoro dei danni per quanto riguarda i balneatori però allo stesso tempo abbiamo sottolineato da un lato la scarsità delle risorse e l'allargamento della platea e dall'altro il fatto che hanno escluso da questa legge così importante, almeno potenzialmente, tutte le organizzazioni sociali, datoriali, di categoria e sindacali che hanno espresso giudizi durissimi a conferma che è stata una norma che sostanzialmente non è stata concertata. Termino dicendo che continuo a chiedere l'abrogazione delle norme sulla transazione, sulle transazioni perché solo quelle ammontano a 162 milioni di euro e accantonare quelle risorse vuol dire non dare queste risorse per la sanità e per la cura dei cittadini. Ecco perché alla fine il nostro voto sarà di astensione e mostriamo la nostra delusione per questi aspetti.